bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video io sono mickey gamer e siamo in un nuovo video di badminton league perfetto che abbasso il volume come avete capito si tratta di badminton ok credo che molti di voi lo conosceranno anche l'agente posante che 10 giocato a scuola sono divertito un sacco scarso sto qua dovevo sapete quando salti di tirare fisso vittoria bene avevo 450 anche uno adesso ne abbiamo me sembra giusto bene secondo ok si è uscita facciate come si aspettate ma per forza ok eccola ancora mamma mia grande e vittoria toraisi livello 3 sono potente bene bene facciamo due partite e vorrei ricordarvi ragazzi se questo video vi piace lasciate un like e iscrivetevi al canale per supportare me e il mio amico siamo noi i creatori di questo canale bene a 5 punti per 7 bella ue punto mio come 0 ma quanto si si eh vabbè non ho fatto niente sono stati tranquilli è stato solo un epic fail però vabbè ma l'ho lui le fa stancare perché vedo che si ma vabbè quanti fail però vabbè tira forte sto qua non sa che posso farti così vittoria bene ragazzi c'è un'altra partita 21 trofei finalmente guadagniamo trofei dopo un botto di tempo ok com'è che si fanno male si vabbè info che mali ha ecco trovato prima giornaliero ok bene facciamo l'ultima partita in questo video bisogna andare qui ma non ci vuole vabbè facciamo così ok aspettate facciamo questo qui bene è scarso io ho appena iniziato ci credo bene bisogna vincere anche quest'altra così chiudiamo il video in bellezza mi era venuto bene ma l'ha preso no volevo ricordarvi consigliatemi qui sotto nei commenti se volete che porti qualche altro gioco oltre a questo vi dico i probabili giochi che porteremo allora porteremo brawl stars nova legacy battle and royale e se riusciamo anche free fire e creative bella buon mamma questa cosa non avevo proprio visto eh vabbè mi è ingannato ma cos'è ah sono lì no non mi frega stavolta no bene bene eh vabbè ho sbagliato io questa la perdo ma non ci credo mai eh vabbè ho sbagliato io bene ragazzi direi che un video di oggi termina qui come prima volta una vittoria una sconfitta ci può anche stare abbiamo perso 18 trofei però va bene ehm se il video vi è piaciuto lasciate un bel like si trovate al canale e da mickeygamer ciao ragazzi ciao ciao Grazie.